Alta Villa Vicentina, un bottino da 150.000 euro e sono andati a colpo sicuro nel mirino dei ladri il magazzino della Philip Martins, nota azienda italiana che produce cosmetici e prodotti biocompatibili di via Brenta. Via scatoloni di profumi e creme. I malviventi sapevano quali erano le aree non coperte dal sofisticato sistema d'allarme e hanno svuotato gli scaffali dopo aver praticato un foro di accesso dal lucernaio da cui sono entrati e usciti indisturbati, indagano i carabinieri. Grazie.